Prima di iniziare a meditare, accendete una piccola candela o un cero profumato e fate in modo che nessuno vi disturbi per almeno una ventina di minuti. Mettetevi seduti o sdraiati comodamente. Chiudete o socchiudete gli occhi. Invitate l'Arcangelo Gabriele ad avvicinarsi a voi ed immaginate il vostro corpo completamente avvolto in una luce giallo-oro dal tono non troppo chiaro. E la luce emanata da Gabriele vi fa sentire sicuri e protetti. Esprimete ora l'intenzione che qualunque cosa accada sia per il vostro bene superiore. Mantenendo la visualizzazione di essere completamente avvolti da questa splendida luce giallo-dorata, respirate comodamente espandendo totalmente il ventre e poi lasciate andare il respiro. Ripetete questa operazione diverse volte finché inizierete a sentirvi calmi e rilassati. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Respirate profondamente, avvolti totalmente nella luce giallo oro. Grazie per la visione! 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 bambino interiore. Quando ve lo porterà indietro, osservate i suoi cambiamenti. Notate come sarà più sicuro, sereno e tranquillo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.